Incessante il lavoro dei vigili del fuoco a causa del maltempo che ha colpito nella notte il veneziano. Sono oltre 150 gli interventi nella provincia per attività di sistemazione e rimozione materiali, taglio arbusti, messa in sicurezza di pali della luce e tegole e un centinaio devono essere ancora svolti. Ci sono stati soprattutto alberi crollati a bloccare strade comunali e provinciali, dissesti, impalcature e reti di cantieri spostate dalle rafiche di vento, strade da liberare dai materiali volati per il nubifragio, come qui a Mestre in via Duca d'Aosta dove una copertura di un tetto è volata via. È partita la copertura della terrazza della casa di fronte, è volata sulla casa vicina, sul tetto, ha tranciato i due camini, portato via i coppi di copertura ed è caduta tra le due case. Colpita tutta la terraferma da Mestre a Chirignago, Spinea, Martellago, Mira e il Miranese e il Veneto orientale. Il Fortunale ha prima colpito l'area dei comuni di Marcona, Martellago, Scorze, Spinea e Noale e quindi si è spostato sui comuni di Sandonà e Portogruaro. Particolarmente colpita anche la zona del comune di Sandonà e Musile di Piave e quella sulla strada provinciale 42 da Concordia verso la salute di Caorle. A Sandonà numerosi sono gli alberi abbattuti con danni anche al tendone del centro vaccinale. In questo momento sono in corso ancora le attività di diciamo sgombero delle strade grazie anche agli operai del comune e di verifica di stabilità sia presso le scuole e altri edifici anche privati oltre che alle alberature. Situazione critica sulla provinciale 79 via dei Pioppi tra i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza dove il vento ha provocato la caduta di parecchi alberi sulla sede stradale che resterà chiusa almeno fino a questa sera. Molta paura ieri sera durante la sagra per l'improvviso maltempo che ha colpito anche Dolo. I danni stimati sono per ora di 100 mila euro riguardano prevalentemente alberature cadute in strade, parchi, aree pubbliche e private, parecchie piante rovinate sulle coperture dei loculi del cimitero cittadino. Chiuse durante la notte le vie Matteotti, Brenta Bassa, Fondamenta e della Resistenza sgomberate già aperte al traffico nel corso della mattinata. Continueremo a monitorare il nostro verde e cercare di migliorare quella che è la prontezza per questi interventi che stanno diventando sempre più comuni e meno eccezionali.